L'Eucaristia è un incontro trasformante con il Signore. È uno dei passaggi del discorso che stamani nella Sala Clementina Papa Francesco ha rivolto ai partecipanti alla plenaria del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici in vista dell'incontro internazionale di Cebu nelle Filippine in programma nel gennaio 2016. Il Congresso ha ricordato il Pontificio avrà come tema Cristo in voi, speranza della gloria e mette in luce il legame tra l'Eucaristia, la missione e la speranza cristiana. Proprio di speranza c'è bisogno nel mondo e pertanto la Chiesa è impegnata, con ardore rinnovato e con lo spirito della nuova evangelizzazione, a proclamare a tutti, anche a chi si è allontanato, il messaggio di Gesù. Il 51esimo Congresso Eucaristico sarà occasione, ha affermato il Papa, per riscoprire la fede come sorgente di grazia che porta gioia nella vita di ognuno. L'incontro con Gesù nelle Eucaristie, ha aggiunto, sarà fonte di speranza per il mondo se accoglieremo la missione di trasformarlo, donando la pienezza di vita che noi stessi abbiamo ricevuto. Portare speranza ma anche perdono, guarigione e amore a chi ne ha bisogno, in particolare, ha concluso il Papa, ai poveri, ai diseredati, agli oppressi con i quali camminare insieme verso un'autentica vita in Cristo. Grazie. 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 Grazie.